I clown dottori dell'associazione In Compagnia del Sorriso, prima e attualmente unica accreditata per la pratica della clown terapia nella provincia Bat, non vanno mai in vacanza ed è così che anche il 6 gennaio 2016, giorno dell'Epifania, passeggiando per il centro commerciale di Molfetta, è stato possibile incontrare alcuni dei membri dell'associazione che, grazie ad una convenzione con la ASL, è attiva da tempo negli ospedali della Bat, con decine di volontari formatisi attraverso corsi specializzati. Adesso i clown dottori hanno allestito un punto informativo a Molfetta per informare gli abitanti del territorio del nuovo servizio di clown terapia domiciliare. Grazie 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 Grazie